Il lettore del messaggero Veneto abbiamo un ospite speciale in questa settimana, il tecnico del coordenone Achelio Tesser, che conosce molto bene Udine inese e lui è praticamente alla vigilia di una partita importantissima al derby contro la Cristina. Come si vive la vigilia di un derby così inedito e così particolare dove c'è molto in paglio? Sì, c'è decisamente qualcosa di importante in paglio. Io sono sereno, sono sincero. Quello che conta è vedere che la mia squadra lavora con serietà, con impegno e quello che stiamo facendo da tutto il campionato e vogliamo continuare a fare questo. Oggi ci sorride e speriamo che anche domenica sera siamo quel sorriso. Prima che voi sorridere domenica c'è una parità importante con Udinese, un anticipo da paura contro la Juventus. Come Udinese non ci arriva male perché ha vinto le ultime due partite ma può fare il risultato in una Juventus che non sembra più così imbattibile? No, la Juve non è imbattibile ma ha 16 punti sulla seconda e quindi direi che è un'armata imbattibile. Diciamo che 16 punti di vantaggio alla vigilia di una partita di Coppa magari la testa è più su quella partita che su quella di campionato. Non per snobare ma perché è naturale, umano che sia così, quindi c'è questa possibilità, questo piccolo vantaggio in più. È chiaro che la Juventus vorrà fare la prova per la partita con l'Atletico e quindi se la mettono sul piano dell'intensità sappiamo che sono i più forti e quindi sono loro i favoriti. L'Udinese la partita se la va a giocare sicuramente ma quella più importante è quella che ha vinto domenica contro il Bologna. Quella da una boccata di ossigeno, non tranquillita ma da una boccata di ossigeno è quello che conta. Poi si potrà fare colpaccio leggero, auguro di cuore.